La Costituzione italiana La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Contiene le norme e i principi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi dello Stato nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. È una Costituzione rigida in quanto non può essere modificata da una semplice legge ordinaria ma solo attraverso un procedimento legislativo detto aggravato, particolarmente lungo e articolato. La Costituzione italiana si apre con un gruppo di 12 articoli in cui sono poste le fondamenta della Repubblica. I più importanti principi enunciati in tali articoli sono Il principio democratico espresso nell'articolo 1 rappresenta la norma base del sistema in quanto la Repubblica si fonda sul consenso dei cittadini che sono gli unici legittimi titolari della sovranità. Nell'articolo 2 si evince il principio personalista dove si afferma che i diritti inviolabili sono le posizioni giuridiche della persona considerate essenziali in quanto connaturali alla natura umana. Il principio di eguaglianza espresso nell'articolo 3 in cui si sostiene che i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza alcun tipo di discriminazione. Il principio lavorista nell'articolo 4 in cui si afferma che il lavoro costituisce il valore centrale dell'ordinamento e il criterio guida della politica nazionale. L'articolo 5 afferma il principio autonomista in cui vi è il riconoscimento dell'esistenza di centri di potere autonomi diversi dallo Stato e più vicini ai cittadini. L'articolo 6 esprime la tutela delle minoranze linguistiche e delle formazioni sociali che si differenziano dalla maggioranza dei cittadini per diversità etniche e linguistiche. Il principio della laicità è espresso nell'articolo 7 dove lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Segue all'articolo 8 la libertà dei culti in cui lo Stato garantisce l'eguale tutela delle diverse religioni come riflesso del sentimento religioso del singolo. La Repubblica incentiva il progresso culturale e tutela il paesaggio e i beni culturali e ambientali. Questo principio culturale e ambientalista lo troviamo nell'articolo 9. L'articolo 10 esprime quello che è l'adattamento al diritto internazionale, ossia l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale. L'articolo 11 della Costituzione italiana esprime un principio bellissimo, ossia il principio pacifista, in cui viene affermato che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie. Ed infine l'articolo 12 afferma che la bandiera della Repubblica è il tricolore verde, bianco e rosso e tre bande verticali di uguali dimensioni.